Grazie di queste magnifiche parole con cui poi noi apriamo i nostri lavori. Ci hanno chiesto di rimanere nei dieci minuti a testa. Ognuno di noi si autoregolerà, grazie. Quello che intendo dire in parte è già stato detto, ma non è un cattivo segno, nel senso che evidentemente abbiamo vissuto un'esperienza condivisa. Io sono molto grata di questa occasione oggi perché mi consente di esprimere il grande debito di riconoscenza che ho nei confronti di Vittorio Cigli. Per tutto quello che via via negli anni ci ha dato, beh in primis c'è il modello relazionale simbolico che ha elaborato assieme alla professoressa Scabini, un modello di una grande plasticità e potenzialità interpretativa, forse proprio perché fatto, costruito nel corso, nel momento di grandi cambiamenti epocali che hanno investito la famiglia. E quindi ha avuto proprio come banco di prova delle sue potenzialità interpretative, una realtà in cambiamento. E per noi all'epoca, giovani, allievi, specializzanti, psicologi, questo ci aveva permesso di capire in tempo reale la nuova famiglia che stava avanzando. E da diversi punti di vista, perché ognuno di noi aveva campi di studio diversi. Questo messaggio di Vittorio era valido per i vari campi, psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicologia sociale. Ancora l'altro elemento estremamente importante era stata l'attenzione riservata alla dimensione storica intergenerazionale dei legami presenti, attuali, familiari. Cioè un presente familiare sempre connesso con il passato e proiettato nel futuro. Ecco, ed è proprio questa dimensione temporale di coesistenza di due linee di sviluppo verticale ed orizzontale che ha favorito il confronto con altri modelli, in parte interagente ma comunque limitrofi, che proprio in quegli anni stavano aprendosi ad una dimensione temporale più alta e più ampia. Penso ad esempio al modello dell'attaccamento che era inizialmente centrato sulla relazione madre-bambino e si stava estendendo allo studio dei legami plurimi nel ciclo di vita. Ecco, a questo i modelli ha fornito significativi spunti per il loro sviluppo interno. E da ultimo ancora due piccoli riferimenti. Come è stato detto, la sua profonda cultura che travaricava l'area psicologica e che traspariva in ogni suo scritto di cui abbiamo usufruito tutti. E se mi permettete di parafrasare un detto calcistico, non si sa niente di psicologia se si sa solo di psicologia. E da questo punto di vista Vittorio era un grande conoscitore proprio al suo grande profondo background culturale al di fuori della psicologia. Da ultimo, ma non ultimo, come è stato messo in evidenza da tutti, la sua grande profonda umanità che travarica il suo modello e si esprimeva nella sua curiosità, nella sua apertura, nella sua disponibilità verso gli altri e le idee degli altri. E per noi all'epoca appunto, relativamente giovani, si esprimeva nell'aiuto e nel sostegno e nell'incoraggiamento costante. Attento al fatto che eravamo in formazione, attento a quello che potevamo comunque portare di modelli in nuce nuovi e abbiamo ricevuto sempre un'enorme disponibilità a confrontarsi su questo terreno. Questo era il suo tratto, il suo tratto portante. Ed è questa stata la nostra ricchezza, quella di cui noi abbiamo più usufruito. Per finire, dicevo, la sua grande umanità che travarica il suo modello. Per fare un esempio, prendo a prestito una frase di uno dei relatori che comparirà nella slide, ma mi sembrava perfetta per concludere. Dice Vittorio, il clinico è tale non solo quando ha frequentato una scuola o ha effettuato una terapia personale, ma quando è pronto ad accettare il rischio dell'incontro con l'altro. E i relatori della tavola rotonda hanno scelto una chiave di lettura che facilita questo incontro con questa parte di Vittorio, perché hanno scelto di presentare alcuni aspetti di cinque concetti capisaldi delle varie aree in cui Vittorio ha operato. E a questi concetti daranno vita attraverso le parole stesse di Vittorio. Credo che questo sia un modo per far cogliere le molte risonanze che questo modello contiene e che è in fondo quello che porteremo con noi nel tempo. Grazie. Adesso passo la parola quindi al primo regatrice. La prima Federica Fachin, che presenterà il simbolico nella coppia e nella famiglia. Grazie. Allora, per poter dare la mia testimonianza dell'eredità ricevuta da Vittorio Cigoli sono partita da una domanda cara a lui come ad Eugenia Scabini e che al contempo riflette un mio punto singolare di interrogazione perché ciascuno di noi è partito da qualcosa che soggettivamente lo ha toccato. Dove nasce il piccolo dell'uomo e dunque che cosa si situa all'origine della vita umana? Sappiamo che Vittorio Cigoli ha lavorato su questa questione nei termini di un viaggio appassionante e coraggioso e non a caso ha intitolato un suo testo il viaggio iniziatico. Allora comincio da questa poesia di Cavafis che Vittorio Cigoli ha riportato in esergo proprio in questo libro e ho fatto questa scelta per molte e diverse ragioni ma posso dire così lui era un grande viaggiatore. Abbiamo viaggiato con lui nel mondo e ognuno di noi porta con sé ricordi di viaggio sempre molto coloriti e divertenti avete avuto testimonianza di questo tutta la mattina e proprio stamattina con Carles ricordavamo il nostro viaggio a Barcellona nel 2016 c'era anche Douglas Snyder ma qui faccio riferimento soprattutto al suo amore per la conoscenza e la curiosità di cui ha dato testimonianza sempre e in ogni suo lavoro. Il suo approccio è caratterizzato da una singolare apertura al dialogo tra modelli, discipline e discorsi e anche questo si è visto questa mattina senza mai pretesa di superiorità anzi il suo lavoro è in ogni senso una continua valorizzazione della differenza e un mettere in guardia dai pericoli della sua negazione anche quando si tratta di visioni metodi e tecniche. Allora ecco una prima questione che annoda l'universale al singolare tutti gli esseri umani sono generati a ciascuno il suo modo di vivere la vita ma a partire dal riconoscimento che all'origine si situa l'altro nel quale ci iscriviamo e ben prima della nostra nascita. Ora Vittorio Cigoli ci ricorda che il tema dell'origine rimanda certamente ad altri incarnati quindi gli altri che noi incontriamo fin dall'inizio della nostra vita ma anche a luoghi, tempi, scenari e non a caso le categorie kantiane di spazio e tempo hanno orientato la sua concettualizzazione del corpo familiare. Si tratta qui di articolare l'orizzontalità della rete di parentela con la verticalità dei passaggi generazionali perché è in questa articolazione che si trova la matrice della nostra soggettività e ricorda Vittorio Cigoli che è precisamente questo l'altro di cui occorre tenere conto. Potere riconoscere che nei confronti di questo altro c'è un debito simbolico perché la vita non ce la diamo da soli. Mi pare oggi un atto sovversivo. La cultura occidentale ha situato l'individuo e i suoi oggetti gadget del capitalismo contemporaneo allo zenith con pseudo fantasmi e uso questa parola nel senso di fantasie di autogenerazione quindi l'essersi fatti da sé che la clinica dei legami familiari ben conosce e qui parlo ad esempio di Paul Claude Racamier che è stato citato anche questa mattina che Vittorio Cigoli li riconosceva come un suo maestro, come un maestro. Li conosce perché i clinici orientati da questa visione psicodinamico generazionale sanno bene quanta distruzione viene seminata dal diniego delle proprie origini fino alla perversione narcisistica e alla violenza nei e dei legami. È inutile dire che la tecnica ad esempio nel campo della medicina sempre più oggi collude con questi fantasmi di autogenerazione e di onnipotenza con la pretesa di far fuori delle categorie proprie dell'umano ad esempio quella di limite o di impossibile e non a caso in questa slide c'è questa parola ubris. Per non parlare della gratitudine a più riprese Vittorio Cigoli ha sottolineato lo stile narcisistico della società contemporanea anche noi ne abbiamo scritto in un contributo per sociologia, la rivista sociologia, con un appiattimento dell'etica sulla dimensione dell'autos, quindi autorealizzazione, autostima, senza coniugarla con quella dell'eteros inteso nei termini dell'irriducibile alterità che l'altro incarna, in primisi figli, e verso cui tende l'azione umana. E qui faccio anche riferimento al versante sociale della generatività che riguarda la tensione desiderante e responsabile che aggancia la persona alla collettività e dunque al futuro del genere umano. Nella nostra visione la relazione diventa allora una presupposizione prima del vivente. La persona, cosa vuol dire questo? La persona è prima di tutto un essere in relazione, è in una rete di legami che si iscrive il piccolo dell'uomo quando viene al mondo, ricevendo qualcosa di ben più potente del patrimonio genetico nell'orientare un destino. Nel concetto di re ligo si trova precisamente l'idea di un legame che trapassa le generazioni. Ciò che è stato vissuto dalle generazioni precedenti va a depositarsi nei nuovi nati anche se non ne hanno fatto esperienza diretta. Si tratta dunque di riconoscere la dimensione inconscia della relazionalità umana che per Vittorio Cigoli non esclude, come si è visto anche nella mattinata, il rapporto tra le anime i viventi, quindi quel sacro familiare che continua ad esercitare la sua influenza nell'attualità e che può essere rimesso in scena nella clinica. In questo scenario la famiglia, e anche questo lo si è visto nell'intervento della professoressa Scabini, la famiglia può essere luogo di commedia ma anche di tragedia, luogo delle origini verso cui provare nostalgia ma anche luogo del male e delle passioni tristi, il rancore, l'odio, la discordia. La clinica dei legami familiari fa posto a e incontra l'ambiguità, cioè il fatto che le cose possano avere una doppia natura, ad esempio che un dono possa essere avvelenato e Maria Luisa Gennari riprenderà ampiamente questi temi. Come poi dirà anche Filippo Aschieri, gettare un ponte tra il visibile e l'invisibile nella clinica dei legami è stato un impegno che Vittorio Cigoli si è preso. Articolare queste due dimensioni significa necessariamente correre il rischio di esplorare qualcosa che non si può vedere, ma agisce, circolando come una corrente sotterranea che riaffiora soprattutto nei momenti di crisi e ovviamente nei passaggi generazionali e che riguarda non tanto emozioni, bensì sentimenti. Per Vittorio Cigoli si tratta di azioni, sentimenti, di fiducia, speranza e giustizia. La professoressa Scabini ha già parlato di questo. Ecco i tre vertici di quell'organizzatore di legami che nel modello relazionale simbolico si chiama appunto simbolico. In che cosa possiamo sperare? Questo riguarda il senso della vita e il nostro protenderci verso il futuro. In che cosa possiamo credere? E questo per me manda anche all'affidarsi e vorrei aggiungere un pezzettino perché è vero che c'è una grande attenzione alla dimensione dell'azione ma qui si tratta a mio modo di vedere anche di un certo rapporto con la parola vera. La parola dell'affidabilità, no? Del prendere un impegno con se stessi e con l'altro. Che cosa significa fare un atto giusto, equo? E qui sarebbe interessantissimo ma basta aprire il vocabolario. Riprendere la non coincidenza tra equità e uguaglianza perché l'equità è sempre declinata caso per caso e dunque implica la singolarità. Così là dove altri modelli ad orientamento sistemico cognitivista mettono al centro il visibile, quindi la coesione, la comunicazione, i confini, gli stili di problem solving, il modello relazionale simbolico sposta l'attenzione su come questi sentimenti cruciali e i relativi temi, quindi sempre tra loro intrecciati e articolati con il loro opposto come il giorno e la notte, maschile e il femminile, vengono trattati nelle relazioni tra gli esseri umani situandoli nel patrimonio genetico di ogni famiglia indipendentemente dai tempi e dalle culture e ricordiamo peraltro che qui la prospettiva non è epigenetico evolutiva bensì strutturale, è interessata a ciò che si dà come invariante nelle molte rapidissime trasformazioni epocali che la famiglia sta attraversando e io trovo che nella liquidità contemporanea questo sia davvero un grande orientamento tanto per la psicologia clinica quanto per quella sociale. Questa slide invece per me segna un passaggio molto commovente perché ci ricorda che noi abbiamo radici ma abbiamo anche gambe e questo significa riconoscere che non basta incorporarsi perché per vivere occorre anche separarsi e rimando all'etimologia di questa parola. Poter tollerare questo senza sprofondare nell'angoscia del tradimento o della sparizione o della devastazione è senz'altro un prodotto del lavoro clinico. In fondo i legami non sono legature come ricorda anche Paul Claude Racamier e donare la vita significa spalancare l'accesso al mondo non precluderlo. È bello ricordare di una persona cara le grandi cose ma anche quelle piccole che fanno la quotidianità di tanti anni di lavoro insieme. La spilletta dell'università cattolica sempre sulla giacca. L'astuccio, l'evidenziatore, la calligrafia. Scusate. Ma del prof vorrei ricordare qui soprattutto un grandissimo amore per la vita ed è proprio su questo insegnamento straordinario riprendendo Anna Arendt che lui citava spesso che chiudo questa presentazione così difficile è per me e lascio la parola a Maria Luisa Gennari. Maria Luisa Gennari ci parlerà dell'intergenerazionale. Grazie. Chi frequenta la clinica e la clinica familiare sa che la parola intergenerazionale è una parola che non è di vittorio è una parola che ci è data da tempo. Anche il modello relazionale simbolico fa uno dei suoi capisaldi e appunto il rapporto fra le generazioni. Ma mi piacerebbe provare a condividere con voi quello che secondo me è l'approccio specifico di Vittorio dell'intergenerazionale perché come ripeto dell'intergenerazionale hanno parlato in tanti e ci sono sicuramente tante correnti di natura psicodinamica, relazionale e sistemica che l'hanno fatto proprio. Intanto per Vittorio il generazionale quindi ciò che passa tra le generazioni ha una valenza inconscia e questo credo che sia un primo aspetto rilevante. L'inconscio per come la pensava Vittorio non è tanto fatto solo sui vissuti e l'interiorizzazione di esperienze, di esperienze di legami ma è propriamente fondato sui legami che hanno dato vita e che danno vita all'individuo e questo credo che sia un accento importante perché all'origine non è l'individuo che esperisce ma all'origine anche a livello inconscio è una trama di relazioni e quindi questo significa che il lavoro clinico ha come obiettivo forte quello di portare a galla, di poter fare i conti con questo deposito che generazioni che hanno appunto dato vita all'individuo, ce lo ricordava anche adesso Federica Facchin, possano essere in qualche modo riconosciute e rincontrate. Generazionale, ce lo diceva stamattina la professoressa Scabini, per Vittorio passa non solo e non tanto attraverso la parola ma attraverso l'azione. Quindi l'azione e la parola, in fondo la parola è sempre che sono da un lato le porte di accesso all'incontro con ciò che si sedimenta fra le generazioni ma che sono anche un po' il compito del clinico, il metodo e la tecnica con il quale si incontrano le persone, le copie e le famiglie. La clinica di Vittorio, il metodo di lavoro clinico di Vittorio è un metodo che fa dell'azione nell'incontro con il clinico, come dire, il suo cardine per eccellenza. L'altro aspetto che credo sia davvero rilevante, almeno lo è per me, è pensare e ritornare un po' a quello che già Federica anticipava pochi minuti fa ed è il tema del doppio. Si è parlato stamattina di speranza, la speranza che a mio modo di vedere Vittorio ci ha lasciato non è tanto un'opzione fideistica, ma è una speranza che nasce dalla consapevolezza che il doppio è delle relazioni quindi che c'è tanto di buono all'origine così come c'è tanto di drammatico e per Vittorio il dramma è un po' il costituente dei legami familiari e quindi degli scambi fra le generazioni e quello che credo ci inviti a fare è fare un po' la pace con questo aspetto. Credo che ci chieda di davvero interiorizzare che è possibile essere psicologi e occuparci di legami e di relazione se in qualche modo accettiamo che questa doppietà fa parte della vita e fa parte delle vicende degli esseri umani. e la speranza si colloca proprio qui perché anche quando ci possono essere dei momenti o degli eventi della vita che fanno pendere il piatto di questo doppio della bilancia sul versante della sofferenza, della fatica, del limite, del problema noi sappiamo che all'origine c'è anche un doppio di bene. Poter lavorare clinicamente vuol dire appunto avere in qualche modo interiorizzato questo aspetto e credo che la speranza che ha in mente Vittorio è questa. Di cosa è fatto il rapporto fra le generazioni? Già si diceva stamattina è un intreccio è un intreccio che tiene insieme, quindi il legame nel versante proprio del legare ma è un intreccio che dà un senso e che dà uno scopo. Io questo credo che davvero sia molto rilevante perché al di là del bene ricevuto o della drammaticità ereditata credo che questo aspetto del generazionale, il senso, lo scopo sia quello che permette alle persone e ai clinici che lavorano con le persone in sofferenza di ritrovare una traiettoria, di ritrovare una prospettiva di riprendere un cammino che è il cammino dell'esperienza di vita. Abbiamo già detto che questa trama, questo intreccio che sta alla base della mente anche individuale e quindi ritorniamo forse a un assioma che per molti è scontato ma non per tutti quindi di una mente relazionale è chiaramente di natura in parte inconsapevole e allora il viaggio del clinico con le persone è un viaggio di scoperte insieme della ricchezza dell'umanità che dà, come dire, la possibilità agli esseri umani di affrontare questa esperienza e di riconoscersi e di riconoscere qualcosa che è stato ricevuto e di cui ci si può diventare consapevoli l'anima del generazionale è decisamente affettiva e in questo credo che sia una delle differenze importanti di come Vittorio ha concettualizzato l'intergenerazionale perché ciò che fa, ciò che dà spessore Vittorio amava molto la parola anima perché aveva con sé questa dimensione di sentimento e di affettività e quindi che non era fatta solo di concetti e in questo senso il senso complessivo che attraversa l'azione trama familiare è soprattutto una verità affettiva noi oggi abbiamo iniziato questo incontro credo evidenziando da tanti punti di vista la dimensione affettiva e non solo emotiva che sta all'origine delle nostre relazioni e che per oggi è la relazione che tutti noi avevamo con Vittorio e poi c'è un altro concetto che mi piace ricordare come caratteristica dell'intergenerazionale perché se è vero che le persone possono ritrovare la loro identità nella riscoperta, nell'incontro con i doni e con i drammi ricevuti dalle generazioni che in qualche modo hanno permesso agli individui di costituirsi, di crescere di affacciarsi alla vita e quindi se è indubbiamente vero che la dinamica generazionale è determinante nel senso che è un campo delimitato all'interno del quale le persone hanno la possibilità di crescere è anche vero che non è deterministico questo io credo che oggi ne abbiamo tutti molto bisogno cioè Vittorio ha sempre criticato asperamente il legame di causa-effetto riguardo i fenomeni umani perché è vero che se i fenomeni umani sono in qualche modo come dire nascono l'esperienza umana nasce all'interno come dire di un campo limitato noi riceviamo e ci siamo costituiti non con l'infinita possibilità ma con delle possibilità finite è anche vero che queste possibilità non sono deterministiche nel senso che c'è un'azione c'è una possibilità degli individui di farsene qualcosa di quanto ricevuto del campo nel quale sono cresciuti non è deterministica l'eredità generazionale perché ogni generazione ha la possibilità di rilanciare la fede e la speranza nel legame tra gli uomini e di distribuire giustizia è determinante perché fa da matrice da confine da campo da utero per la costruzione del sé se è vero come ci dicevamo prima che il costituente fondamentale dello scambio generazionale è il doppio ed è quindi la visione è sicuramente di un bene ma anche di un dramma all'origine dramma che tengo a precisare non è tragedia è dramma e quindi è aspetto faticoso e di sofferenza è vero che per poter arrivare all'armonia per arrivare a un come dire a una situazione di pacificazione con tutta l'eredità ricevuta c'è bisogno di un'azione individuale che è costruttiva dei legami non è un dato di fatto l'armonia dell'essere umano nella vita ma è una ricerca continua ed è questo spirito di continua ricerca che in qualche modo legittima e fa da fondamento dell'intervento clinico e dell'intervento clinico orientato secondo questa prospettiva e poi l'ultimo aspetto che vorrei evidenziare e che a me sembra davvero molto significativo e che rimane uno degli strumenti una delle eredità che io porto con me del lavoro fatto con Vittorio è il fatto che questa azione generazionale implica coinvolge i poli della relazione in azioni che Vittorio ha sintetizzato benissimo in questo libro l'albero della discendenza azioni che sono trasmettere tramandare trasgredire la trasmissione generazionale tocca chiaramente alla generazione più vecchie alle generazioni che arrivano prima ed è una trasmissione che è di patrimonio genetico di doti di beni di status sociale anche è un passaggio come dire di diritti e di doveri che si assume in cui si impegna la generazione precedente rispetto alla generazione successiva ed è proprio qui che si colloca una prima questione sulla lettura della psicopatologia nella prospettiva di Vittorio Cigoli che se il trasmettere è una dimensione spaziale qualcosa che viene traslocato da una generazione all'altra la psicopatologia è un po' la risposta alla domanda quanto territorio mentale della persona viene occupato in quest'opera di trasmissione quanto viene saturato in quest'opera di trasmissione quanto invece lo spazio con cui crescono le persone e gli individui come dire è forte di un'eredità di ricevuta ma rimane uno spazio mentale che è un concetto caro a Vittorio fluido da poter riempire da poter reinventare l'altro concetto dell'azione generazionale è il tramandare si tramanda qualcosa che non è più così materiale che ha più a che fare con il trasmettere ma si tramanda il nome si tramandano le origini i miti e quindi torniamo a quella valenza simbolica di cui abbiamo sentito qualche minuto fa e qui entra in gioco la temporalità dello scambio generazionale di nuovo ciò che è tramandato in qualche modo satura o ciò che è tramandato fa da ancoraggio fa da radice che permette il costituirsi della persona ma la persona poi è libera di rimaneggiare questi aspetti che ha ricevuto trasmettere e tramandare per Vittorio sono come dire le invarianti sono due azioni che toccano la generazione precedente ma in una prospettiva chiaramente relazionale nello scambio generazionale c'è una parte di azione attiva agente anche della generazione successiva che riceve ed è che Vittorio traduce con la parola trasgredire che è una parola che io amo molto perché se da un lato è vero che in questa parola c'è un permesso che sta all'origine è vero che è possibile trasgredire per la generazione successiva se la generazione precedente ha lasciato spazio ha lasciato tempo è anche vero che è una responsabilità della generazione successiva e qui ritorniamo al non determinismo di Vittorio Cigoli che mi sembra davvero rilevante perché fonda in qualche modo lo ripeto la prospettiva in un modo molto psicologico della speranza del lavoro con le persone tocca alle generazioni successive accettare e riconoscere ciò che padri e madri hanno lasciato in eredità rilanciando quest'azione generativa l'ultima battuta che vorrei fare è rispetto a questi padri e madri perché l'intergenerazionale di Vittorio non coincide con il padre e la madre ma padri e madri sono tanti nella vita delle persone e quindi come dire io credo che in questo plurale in questi nomi al plurale ci sia la consapevolezza ma anche l'invito a pensare che chiunque nella propria posizione può essere padre e madre e chiunque nella propria posizione è stato figlio di tanti padri e madri io credo che per me ma come credo che per altre persone che sono qui oggi in questa prospettiva Vittorio è stato sicuramente un buon padre grazie grazie allora Sara Margoga magari cerica clinica grazie allora nel pensare che cosa dire in questo spazio rispetto al rapporto tra ricerca e clinica sono partita da un interrogativo ovvero perché parlare di ricerca in questa tavola rotonda in questo momento e la risposta più ovvia che mi è venuta è anche quella forse più immediata è perché siamo in università in questo contesto primariamente si fa ricerca e quindi non potevamo che parlare di ricerca e dunque perché Vittorio Cigoli il prof perché come diceva prima Federica in chiusura anche per me diciamo da quando l'ho rincontrato all'inizio degli anni 2000 come tirocinante dopo averlo avuto come professore durante il corso di studi da quel momento per tutto il percorso che ho avuto la fortuna di fare con lui è diventato il prof dunque perché il prof era un ricercatore curioso per sua natura oltre che un clinico possiamo però forse dare anche una risposta meno immediata cercando di approfondire il modo specifico in cui Vittorio Cigoli guardava la ricerca e il suo rapporto con la clinica in questo senso possiamo subito affermare come Vittorio Cigoli non fosse solo un clinico e un ricercatore come una sorta di doppia identità ma fosse un clinico ricercatore intendendo con questo termine un unicum un'unica identità un po' come ci ricordava anche attraverso le parole chiave la professoressa Scabini all'inizio creando un intreccio tra l'essere il suo essere clinico e il suo essere ricercatore voglio dire che lui ha sempre considerato clinica e ricerca come attività inscindibili e intrinsecamente legate all'origine potremmo in un certo senso dire due facce della stessa medaglia non si può dunque pensare alla ricerca senza clinica ovvero senza un risvolto pratico applicato al lavoro clinico e viceversa non possiamo pensare alla clinica senza ricerca in altre parole la ricerca non può essere per se stessa ma il suo valore legato all'utilità che ha per la pratica allo stesso tempo la clinica ha bisogno della ricerca e non può che essere su di essa fondata e attraverso di essa sostanziata il valore della clinica è dunque legato all'attività di ricerca che il clinico ricercatore svolge sul proprio operato la ricerca consente infatti un pensiero rigoroso sull'azione clinica e un lavoro di riflessione sia sull'agire del cliente sia sull'operato del professionista e sul ruolo di entrambi come promotori di cambiamento entro il percorso di cura pertanto entro il pensiero di Vittorio Cigoli la verifica dell'intervento clinico è parte integrante dell'intervento medesimo ed esso non può essere pensato senza un'azione di verifica secondo tale logica la verifica si viene così a configurare quale momento chiave del processo clinico in questa direzione non possiamo perciò pensare alla verifica solo in termini di efficacia ovvero l'intervento funziona oppure no bensì anche di efficienza e di comprensione dei meccanismi di cambiamento sottesi al percorso di cura ovvero cosa accade e come funziona l'intervento entro la dinamica relazionale tra professionista e chi a lui si rivolge in cerca di aiuto potremmo anche dire che indirettamente la verifica rimanda al principio dinamico del modello ovvero a quel triangolo che fa delle azioni del dare ricevere ricambiare la sua struttura portante del resto la verifica non riguarda solo l'intervento clinico in senso stretto bensì riguarda più in generale anche i principi teorici di quello che non a caso è stato definito il modello relazionale simbolico il termine modello rimanda infatti una definizione ben precisa che ha proprio a che fare con la necessità di verificare la bontà e la tenuta di alcune presupposizioni teoriche non si tratta dunque soltanto di definire dei concetti teorici che rimangano astratti ma di poterli da una parte tradurre operativamente attraverso l'intervento e dall'altra la possibilità di sottoporli a continua verifica rispetto al rapporto tra clinica e ricerca potremmo però fare anche un ulteriore passaggio dicendo che per Vittorio Cigoli la ricerca è già in qualche modo intervento clinico nel senso che il clinico ricercatore attraverso l'uso di strumenti strumenti clinici per l'appunto di cui diremo tra breve al contempo raccoglie dati ma operando nella relazione attraverso la relazione avvia altresì un processo di riflessione di trasformazione ricerca e intervento rispondono dunque ai bedesimi obiettivi di ricerca di senso attraverso un processo di conoscenza che avviene entro la relazione e attraverso la relazione la connessione tra ricerca e intervento assume in tal senso anche un fondamento etico come diremo poi dunque la ricerca diventa il punto centrale che accomuna l'attività di ricerca e l'attività clinica e di conseguenza entro questa prospettiva la cura della relazione non può che essere un obiettivo primario anche nell'attività di ricerca parlare di cura della relazione ci porta ad introdurre alcune parole chiave cara Vittorio Cigoli che riguardano attività cliniche di ricerca innanzitutto la reciprocità ovvero il riconoscimento dell'altro come altro da sé potremmo dire il riconoscimento e l'accettazione della differenza come già sottolineato anche negli interventi precedenti senza differenza non può esserci relazione dunque la reciprocità si viene a configurare quale fondamento della relazione ciò a livello di ricerca si traduce in un atteggiamento di curiosità e di apertura a ciò che l'altro ci offre ma rimanda anche al fatto che l'altro ha un ruolo attivo nel processo di ricerca la ricerca non viene dunque fatta sui soggetti ma viene costruita insieme alle persone entro il percorso di cura ricordiamo a tale proposito che il termine stesso di persona preferito a quello di soggetti rimanda proprio come Vittorio Cigoli scrive nel viaggio iniziatico alla relazione esistente tra l'essere membri di un insieme il corpo familiare ma anche il corpo sociale e l'essere individui intenzionali e decisionali in altre parole non si tratta di applicare degli strumenti esterni al lavoro clinico ma di mettere tali strumenti in primo luogo al servizio del lavoro clinico la seconda parola chiave è responsabilità che apre la dimensione etica della relazione il rapporto tra etica e ricerca non sta solo nel fatto che la ricerca deve rispettare norme principi etici la cosiddetta etica della ricerca ma ha a che fare con un aspetto più profondo la ricerca è etica della relazione nel senso che il fare ricerca costituisce un modo con cui il clinico ricercatore si prende cura dell'altro e così facendo esprime e mette in atto la dimensione etica della relazione infine la qualità la qualità introduce una riflessione sul metodo Vittorio Cigoli ha più volte parlato di metodo distinguendolo dalle tecniche il metodo inteso come modus operandi del clinico ricercatore è la strada che orienta il lavoro ed ha senso a ciò che il professionista fa il metodo costituisce dunque un ponte tra le presupposizioni teoriche e le tecniche di intervento e si configura come una via attraverso cui si può realizzare il cambiamento entro la relazione di cura parlare di qualità non significa far riferimento necessariamente a specifici strumenti o tecniche ma rimanda alla logica complessiva sottesa alla ricerca che avendo come obiettivo primario la ricerca di senso si orienta a un atteggiamento di natura qualitativa volto proprio a comprendere in profondità l'altro e il propium della sua esperienza e delle sue vicissitudini in altre parole l'atteggiamento qualitativo delinea una strada coerente con un'epistemologia e un'etica relazionalmente orientate entro tale atteggiamento trovano così spazio alcuni dei concetti cardine del modello come ad esempio la dimension come ad esempio scusate la ricerca della dimensione relazionale simbolica sottesa allo scambio interattivo e la portura allo spazio-tempo in cui le relazioni hanno luogo in altre parole questo atteggiamento rende conto della complessità delle relazioni sia quelle familiari che quella di cura e della natura dinamico-processuale che le caratterizza e vorrei chiudere questa riflessione sulla ricerca accennando anche agli strumenti possiamo a tale proposito parlare di strumenti clinici proprio nel senso di quanto detto in apertura ovvero del valore della ricerca come parte non solo integrante all'attività clinica ma come sua parte fondante volta ad avviare un processo trasformativo entro una relazione di cura gli strumenti dunque sono clinici in quanto calati dentro il percorso di cura essi non sono esterni al percorso applicati dall'alto da un ricercatore a sua volta esterno ma sono parte integrante di un percorso a quale appartengono tanto il clinico ricercatore quanto il cliente sebbene come detto gli strumenti debbano essere al servizio del metodo della relazione Vittorio Cigoli in più occasioni ha sottolineato la bontà e l'utilità di alcuni strumenti specifici non voglio qui entrare nel merito di tali strumenti ma soltanto accennare alla logica ad essi sottesa faccio riferimento nello specifico in primo luogo all'utilizzo delle immagini tema di cui si è già parlato anche in precedenza per Vittorio Cigoli le immagini sono un elemento chiave per accedere alla dimensione delle relazioni a tale proposito in un suo testo afferma proprio che pensare per immagini è un fondamento relazionale le immagini infatti smuovono emozioni e sentimenti e consentono di cogliere aspetti meno accessibili e pertanto meno comunicabili attraverso il canale verbale non a caso anche nello strumento dell'intervista clinica generazionale messa a punto insieme a Giancarlo Tamanza accanto a stimoli verbali dialogici sono poste anche le immagini le immagini inoltre essendo come più volte affermato dallo stesso Vittorio Cigoli un equivalente del sogno consentono accesso alla matrice simbolica dei legami nonché danno voce a pensieri e sentimenti a volte inattesi già il professor Testor prima ha fatto riferimento al tema dell'inatteso ricordando il professor Cigoli l'inatteso è sicuramente un elemento cruciale per Vittorio Cigoli che più volte lo ha valorizzato nelle sue riflessioni cliniche e anche nella ricerca sottolineando come la presenza di uno spazio mentale ovvero la capacità delle persone di aprirsi al nuovo alla sorpresa all'imprevisto per ciò che riguarda il legame e le sue vicissitudini sia un indicatore non solo della qualità del funzionamento relazionale ma anche della possibilità di efficacia dell'intervento clinico inoltre Vittorio Cigoli ha più volte sottolineato il valore degli strumenti congiunti ovvero quelli che coinvolgono contemporaneamente più membri familiari al fine di poter accedere a partire dallo scambio interattivo alla qualità delle relazioni al di là della dimensione rappresentazionale tali strumenti infatti consentono di comprendere aspetti del legame entro la famiglia e con il clinico ricercatore al di là delle singole rappresentazioni di questi strumenti pertanto non interessa solo il prodotto cosa le persone fanno insieme ma anche soprattutto il processo cosa accade mentre le persone fanno qualcosa insieme è infatti proprio l'attenzione alla processualità dello scambio che consente di accedere alla dimensione relazionale nella sua natura dinamica in questa direzione gli strumenti pensati utilizzati da Vittorio Cigoli favoriscono una connessione tra passato presente e futuro delle vicende familiari creando così una cornice storico temporale di comprensione dei legami che costituisce un presupposto imprescindibile entro una visione generazionale delle relazioni familiari come ci ricordava anche prima Maria Luisa un terzo ed ultimo aspetto relativo alla logica sottesa agli strumenti che voglio qui ricordare riguarda il valore dell'azione non a caso molti degli strumenti proposti utilizzati sono definibili come grafico costruttivi ovvero sono strumenti che richiedono ai membri familiari di fare qualcosa insieme è infatti proprio la dimensione dell'azione e nello specifico dell'azione congiunta che consente di cogliere quello che Vittorio Cicoli chiamava il corpo familiare agente attraverso l'azione familiare è possibile cogliere la dimensione relazionale simbolica quale fondamento del familiare ecco dunque un esempio di come il modello e i suoi pilastri trovino una traduzione operativa nella scelta di metodologie specifiche che possano orientare e guidare l'intervento clinico e concludo riprendendo l'interrogativo da cui sono partita ovvero perché parlare di ricerca in questa sede perché la ricerca secondo la logica e la prospettiva che abbiamo qui sinteticamente delineato non va intesa solo come messa a punto di specifiche procedure quanto piuttosto come formamentis del clinico ricercatore che attraverso di essa attiva un pensiero relazionale all'origine e dunque agisce secondo un codice fondato sui principi etici della cura dei legami di cui anche l'attività stessa di ricerca fa parte secondo quanto pensava il prof grazie grazie dal vivo poi solo poi utilizziamo strumenti utili a produrre conoscenza si conosce si riconosce nella relazione nella ricerca clinica l'assessment psicologico ne è un esempio secondo Cigoli si conosce nella relazione ora se uno prende sul serio questa cosa secondo me sento un piccolo giramento di testa un senso io sento un senso di vertigine perché non si può che ammettere che nei risultati di una valutazione di un assessment di una psicoterapia noi non conosciamo solo la realtà dei nostri assistiti ma anche quella che abbiamo sviluppato nella relazione con loro come dice il prof si conosce e si riconosce nella relazione e questo è un limite difficile da masticare perché mette in discussione la hubris connessa all'ambizione della conoscenza vera pura per così dire dell'altro che permea la professione accademica in particolare noi siamo portatori non sani di questa malattia nella mia storia col prof sono partito con dei presupposti piuttosto lontani da questa amara consapevolezza il mio amore per il test di Rorschach e il desiderio che condividevo che condivido con il gruppo della prof di l'acqua di toglierlo dall'aurea l'aura di strumento divinatorio quasi privo di validità e attendibilità per partecipare al filone di ricerca che mirava a mostrarne il valore di test affidabile e valido per illuminare disposizioni stabili della persona quella che si chiama personalità nel pensare sentire relazionarsi con se stesso e l'altro l'eredità che desidero condividere di Cigoli oggi ha a che fare con come lui ha influenzato il mio percorso umano e professionale sul tema dell'assessment dei suoi metodi della sua etica e del suo valore come premessa questa riflessione partirei dal riflettere sulla posizione di Cigoli rispetto al limite della conoscenza e il prof in un altro testo utilizza un termine molto duro inganno per connotare la quota di limite della conoscenza intrinseca alla ricerca psicologica masticare e digerire il limite che si accompagna all'impresa conoscitiva si tratta di accettare il fatto che il tema della conoscenza è congiunto a quello dell'inganno detto da un professore universitario secondo me è interessante no? parlavamo prima del doppio questo significa che ogni scoperta ogni concetto ha lo statuto epistemologico di un sogno o ancora di più di una costruzione della fantasia che conoscere la deltà o quantomeno una quota di essa ci è precluso assolutamente no per dirla col prof ma per niente affatto significa però che accanto a quello che di conoscenza traiamo nella nostra impresa conoscitiva lui amava parlare di risultanze degli studi non di risultati non possiamo dimenticare il limite associato ad essi come si è sviluppato il mio digerire il limite citato da cigoli il prof è questo stato saggio secondo me inizialmente mi ha supportato nell'illusione della ricerca della verità con la v maiuscola no? quindi vai Filippo a studiare il sistema comprensivo di Exner siamo all'inizio degli anni 2000 quindi quello era lo standard e dopo vai Filippo in un servizio di consulenza a somministrare il Rorschach individuale di coppia per la tesi di dottorato sulle proprietà psicometriche del test ora siccome nella psicologia clinica come già detto da Maria Luisa e da Federica ogni buio ogni inganno ha in sé il potenziale di una luce riprendendo quello che si diceva con Raffaella e i miei colleghi della lezione un altro giorno la mia preoccupazione è quella di osplorare in che modo questo inganno ha una luce dentro e se l'impresa conoscitiva è anche un inganno allora diventa fondamentale chiederci con quale logica decidiamo di dare visibilità ad un oggetto di studio o a un altro a quale oggetto decidiamo di dare luce quale costrutto decidiamo di mettere sul palcoscenico parlare di corpi familiari è nella sua essenza una fiction una filosofia del come se opera a cavallo tra l'errore e la pratica è un modus dicendi un'idea o un sistema di idee ma anche un'invenzione è un invenzium un utile strumento per la conoscenza Cigoli nella sua carriera ha investito su oggetti complessi come quello di corpo familiare nelle sue parole una invenzione utile a produrre conoscenza ma se la conoscenza è sempre anche un inganno quale valore specifico di questa scelta questa domanda secondo me apre un'erdità di Cigoli che per me è tra quelle più importanti quella della dimensione etica della pratica clinica in altri termini i risultati dell'assessment danno informazioni circa un costrutto che per ragioni etiche crediamo sia importante far emergere dal campo dell'informe la tecnica serve per dare visibilità al corpo familiare e ai suoi caratteri se non c'è figura c'è solo l'informe e non c'è possibilità di riflessione cosa mi porto dietro oggi di questa scelta etica nella mia vita professionale personale scientifica che conoscere è la premessa per intervenire ma soprattutto che la prima forma di intervento non è un'azione strategica nel modificare un oggetto che esiste là fuori piuttosto è la nostra partecipazione alla definizione di un campo di azione di una nuova gestalt di cui anche noi in qualche modo siamo attivi partecipanti e delle cui caratteristiche siamo responsabili calato nella mia storia ricordo la passione che ho messo nel dottorato sulla misurazione obiettiva delle dimensioni di psicopatologia del legame e di vedere il prof non tanto entusiasta del K di Cohen dell'FX size medio largo di tre variabili del P minore 0,01 e io ero tutto contento e io mi ricordo che invece quello che lo faceva brillare gli occhi era il mio sforzo di riconoscere un oggetto di indagine complesso come la coppia nel suo insieme ora qual è la funzione delle tecniche di assessment la prima è relativa all'idein al vedere al gettare un ponte tra visibile e invisibile la seconda è relativa allo scopo clinico quello di offrire nuova linfa vitale al corpo familiare e quello che ho capito è che il principio etico che Cigoli ha scelto per guidare la sua azione clinica è quello della cura dell'altro nei limiti e con le opportunità offerte dal contesto che si faccia dunque consulenza diagnostica ricerca e psicoterapia sempre si risponde al principio relazionale che ha in sé il medesimo volto della cura ripenso qui al tema già anticipato da Camillo da Alessandro Antonietti che mi hanno preceduto al tema della cura per il prof da quella molto concreta dei luoghi chi si ricorda la cura del presepe nella sede di Vienirone delle ricorrenze festose di Santa Lucia col cesto per raccogliere biscotti e caramelle a quella dei legami anche in contesti ostili alla cura stessa la consulenza tecnica di ufficio come luogo di cura non di terapia e alla cura delle relazioni come terzi oggetti che legano e trascendono i loro partner diventa secondo me a questo punto per me almeno centrale l'ultimo e più recente elemento di eredità che ho ricevuto dal prof il tema della preparazione propria e dei colleghi psicoterapeuti all'incontro con l'altro e come ho già detto la collega Carli è difficile dire quando un clinico è pronto può sentirsi preparato perché ha frequentato una scuola una terapia personale ma è pronto quando accetta il rischio dell'incontro con l'altro e questa cosa qui non è vera solo per gli altri è vera anche per noi e quindi vera anche per Cigoli e questo è un elemento molto delicato perché dice del modo in cui io e il prof non abbiamo o abbiamo affrontato ed elaborato esplicitamente le nostre differenze dove altro da lui inizialmente era sicuramente la mia parte scientifica tra virgolette e altro da me era inizialmente la sua parte di regista sceneggiatore drammaturgico teatrale con cui si rappresentava il ruolo dello psicologo nell'incontro terapeutico e ci è corso molto tempo per dialogare su queste differenze e per riconoscere il valore reciproco ma molto tempo sono anni che lavoravamo tutti i giorni insieme cioè per anni non ne abbiamo parlato complice di questo scambio è stata la passione che condividevamo per lo sci per i viaggi e le iniziative un po' matte il primo scambio lo ricordo lo avevamo in macchina andando a Castelrotto poco sopra Ortisei verso metà dicembre per il consueto ritiro prenatalizio del nostro gruppo parlando del più del meno mentre guidavo mi chiese a brucia pelo se potessi consigliargli come interpretare e restituire due MMPI è un test self report famoso ai genitori di una coppia che seguiva in consulenza io mi sentì di colpo me lo ricordo come se fosse ieri il cervello vuoto e fui incapace di dire di sì ripensandoci la sera stessa mi resi conto che ero spaventato che il suo giudizio sul mio eventuale contributo finisse per ferirmi fu l'anno successivo in viaggio che in macchina con Francesca e sua moglie Giuseppina diretti sulla costa del Golfo del Messico dalla Louisiana iniziamo a parlare del lavoro che già stavamo facendo da tanti anni col CEAT sotto la sua direzione e di come stessimo dando voce a concetti relazionali integrando strumenti scientifici intesi in senso forte e letture ideografiche cliniche relazionali e della difficoltà di formare adeguatamente nei confini dei corsi offerti in università clinici in grado di incontrare l'altro nella sua differenza da lì l'iniziativa matta di uno scuolo di specializzazione in psicoterapia integrata che riunisce i principi che comunano il modello relazionale simbolico e l'assessuale terapeutico che fosse in grado di mostrarne la congruenza ma anche di riconoscerne le differenze e i campi elettivi di applicazione questa eredità che ho avuto l'onore di contribuire a portare avanti per alcuni anni dopo che il prof si è ammalato caratterizza il ricordo della sua generosità intraprendenza e iniziativa che oggi cerco di portare avanti qui in università nel CEAT dove così come lui mi ha mostrato la non paura a conoscere il mio altro arrivando non solo ad accettarlo e valorizzarlo cerco di portare avanti un'attività clinica di didattica ricerca che si è aperta a cercare la differenza nell'altro accettandola valorizzandola mantenendomi aperto a riflettere sul ruolo che la mia differenza dall'interlocutore ha sulla relazione che stiamo creando e sulla conoscenza che stiamo sviluppando di lui dei suoi problemi ma alla fine di entrambi noi stessi grazie passiamo all'ultima relazione di Giancargo Tamanza clinica e ricerca nella separazione e divorzio sì grazie non sarà una relazione ma solo ormai poche parole per chiudere questa sommaria è in compiuta rappresentazione di quella che è l'eredità soprattutto in campo clinico di Vittorio all'interno di questa università che non è limitata a queste cinque persone che oggi sono qui a dar voce a questo che è qualcosa di molto più ampio forse avete intravisto già nel frontespizio delle presentazioni altri nomi che sono tra le persone più vicine in particolare Monica Cordini Giulio Costa Chiara Fusar Poli e in particolare poi il professor Davide Margola che forse come qualcuno di voi sa oggi non può essere qui con noi per ragioni di salute ma che sta partecipando e che volentieri ricordiamo lo facciamo questo chiusura scegliendo uno dei temi che hanno caratterizzato in modo molto forte molto esteso il lavoro di Vittorio che in particolare mi è anche molto caro rispetto al quale sono stato molto ingaggiato e che ha a che vedere con la coppia e con la separazione è un tema che credo possiamo tranquillamente considerare come uno degli ancoraggi che ha segnato tutto il percorso di ricerca dall'inizio come dire dei primi volumi che tra poco ricordiamo dal legame di Sperante di più di 30 anni fa al credo proprio l'ultimissimo volume scritto con Mario Luginari che aveva a che fare con le coppie separate eccetera ha rappresentato un motivo costante di interesse che peraltro ha incarnato secondo me in modo molto forte molto evidente quello che lui stesso nel video che abbiamo visto in apertura e poi abbiamo visto nella prima tavola rotonda e rivedremo anche nel pomeriggio ha costituito uno degli aspetti del suo lavoro e cioè il mettere insieme il tenere insieme lo studio la ricerca anche direi in questo in qualche caso l'invenzione e la scoperta di qualche pensiero nuovo con la formazione e anche con l'attività clinica di questo connubio anche dentro l'università mi pare ci siano dei segni forti di questa eredità e di quanto è stato generativo non soltanto per le numerose collaborazioni di ricerca ma per tutto il lavoro che è stato poi da lui iniziato e poi certo portato avanti anche con ampie collaborazioni all'interno del centro famiglia sulla formazione penso alla bella e lunga esperienza dei master dei perfezionamenti per la mediazione e quant'altro che ancora sopravvivono e anche per la realtà dell'esperienza clinica che viene per quanto possibile realizzato in università attraverso il centro clinico della coppia della famiglia direttamente appunto dal professor Margola cioè è proprio uno dei temi che ha appassionato sicuramente Vittorio e con lui molti di noi e che nel corso del tempo è stata davvero una una grossa occasione non solo per sviluppare confronti e collaborazioni ma anche questo è un altro tratto che io sento molto bello molto interessante uno degli ambiti in cui è stato più facile vedere la possibilità di applicare anche le linee concettuali del modello teorico nell'intervento nella pratica clinica e facendone anche poi una valutazione empirica una validazione empirica se penso alle tante belle idee che appunto hanno segnato questo lungo percorso di ricerca e mi chiedo dov'è che è più facile è stato più facile o che è più facile ritrovare l'applicazione operativa nell'intervento clinico della teoria sicuramente a me pare ma forse questo è solo la mia visione parziale che nell'ambito delle pratiche di cura della relazione nella separazione del divorzio abbiamo degli esempi veramente molto molto interessanti che nascono dicevo non a caso più di 30 anni fa con quel lavoro quell'opera e quel titolo particolarmente fortunato di questo testo veramente eccezionale che quasi tutti conosceranno il legame di sperante un lavoro fatto con marina mombelli e con carlo galimberti credo sicuramente il più venduto in assoluto dei libri di vittorio che ancora oggi si vende molto bene perché ancora oggi ha tutto il suo valore assolutamente attuale è un testo che io trovo come a dire davvero di una intuizione profetica nel merito lì nell'88 si introduce attraverso un bellissimo lavoro di di analisi di ricerca sugli interventi clinici nella separazione all'interno delle consulenze tecniche con un apparato metodologico estremamente raffinato da lì viene fuori due idee appunto profetiche fondamentali l'idea di legame disperante è stata anche un colpo di fortuna forse trovare una definizione così efficace ma che assolutamente coglie un punto di verità e quell'altra cosa ancora più importante che poi vent'anni dopo è diventata anche come dire cultura diffusa recepita in una legge anche se poi subito fraintese manipolato cioè l'idea di una genitorialità condivisa identificando il criterio dell'accesso all'altro genitore come criterio portante per le regole anche dell'affidamento sono aspetti che a ripensarli oggi soprattutto per chi tanti di noi hanno avuto modo di lavorare anche in collaborazione col contesto giuridico che introduce anche qui una particolarità a cui Vittorio ha dato un grande contributo anche negli sviluppi successivi perché significa mettersi non solo al confronto in ascolto in collaborazione con chi dentro la psicologia ha altre visioni teoriche ma addirittura mettersi in dialogo nel tentativo di lavorare in una direzione comune con dei mondi culturali professionali scientifici che hanno tutt'altra visione come lavorare col mondo giuridico ecco lì si trova secondo me un aspetto veramente geniale di aver intuito e questo è molto di più che non soltanto un buon mestiere una buona capacità scientifica di aver colto veramente un elemento essenziale tant'è che la conferma è questa ancora oggi viene o comincia ad essere perché poi a essere sincero tante volte mi capita di di vedere di sentire citare queste conoscenze per nome ma ancora con qualche fatica poi a tradurle fino in fondo ad assumerle fino in fondo rispetto poi alla pratica dell'intervento clinico comunque certamente su questo filone nato con quel lavoro in quel modo si è poi sviluppato anche con tante altre collaborazioni una costanza di impegno di sperimentazione e di diffusione di tante pratiche dalla mediazione alla consulenza tecnica ai gruppi di parola e per ultimo al coordinamento genitoriale che in qualche maniera fanno comunque riferimento a questa visione che è ripeto in modo molto particolare molto esemplificativo collegato appunto anche i capisalti ideologici del modello relazionale di cui abbiamo sentito parlare tutta mattina cosa c'è di molto nuovo in questa visione della separazione che quindi produce poi questa questa logica di intervento di sicuro come dire è il collocare il tema della separazione connesso alla genitorialità nel contesto di separazione a questa visione generazionale che è stata ricordata che vuol dire Emery nel suo video ricordava la fatica del lavoro di elaborazione della perdita della separazione addirittura diceva come tanti clinici con lui che questo dolore qualche volta può essere vissuto in una misura così angosciante così difficile da legame disperanti appunto da essere anche molto più importante e più difficile da elaborare che non addirittura il lutto collegato alla morte di una persona per dire di come questa dimensione va a cogliere un aspetto così intenso così essenziale nella vita psichica delle persone e l'idea di fronte all'incontro con la coppia che fatica appunto ad assumere la sofferenza connessa a questo tipo di perdita e che poi si traduce come ben sappiamo il più delle volte in una conflittualità esasperata distruttiva cronica intrattabile e quant'altro l'idea è che il modo per provare ad aiutare queste persone a uscire da questo circolo distruttivo sia appunto pensare alla separazione come una fase di passaggio trovare il modo per aiutare le persone a sostenerle in questa transizione che richiede di fare tutto un lavoro che poi è anche molto ben descritto in tanti altri lavori di Vittorio un lavoro che permetta loro di ritornare per così dire al fondamento di questo legame di riscoprirne il significato e il valore perché come diceva appunto lui è soltanto nel momento in cui c'è la possibilità di riconoscere che cosa di buono c'è stato durante appunto un'esperienza come un legame di coppie che ha generato dei figli eccetera che può diventare forse possibile sopportare tollerare anche il dolore della fine e quindi vivere la chiusura della relazione non come una fine definitiva ma appunto come una chiusura di una parte di esperienza e una trasformazione di quel legame che poi appunto attraverso la genitorialità in qualche modo prosegue e l'altra questione che poi diventa cruciale anche nel lavoro clinico con le coppie in queste situazioni è il richiamo alla dimensione etica della responsabilità non come morale o moralismo non come principio astratto ma come la necessità di rimettere nelle mani della persona delle persone anche il punto decisionale ricordo più volte che nelle discussioni nei confronti con Vittorio rispetto al lavoro clinico spesso tornava su questo punto e c'è a dire naturalmente che non era più possibile immaginare di interpretare una funzione terapeutica di cura che cercasse in qualche modo appunto di tradurre in realtà in esperienza di vita le idee messe a punto nella riflessione teorica immaginando che fosse nelle nostre mani di psicologi di terapeuti la possibilità di determinare o addirittura di decidere quale fosse appunto poi la via di uscita più opportuna anche quando diceva se adesso noi possiamo immaginare un po' più o meno presuntuosamente di aver capito qual è il problema e quale sarebbe la soluzione anche quando magari ci riusciamo davvero perché il punto cruciale è aiutare le persone a riassumersi la propria responsabilità e la consapevolezza che a un certo punto di questi itinerari di accompagnamento che noi possiamo mettere in campo tocca a loro prendere una decisione e nell'atto del decidere appunto che in qualche maniera si concretizza con la tensione etica che ripeto non è soltanto un concetto astratto ma che si fa appunto un passaggio della vita e questo credo che valga non soltanto in riferimento all'intervento clinico questo richiamo al fatto che ciascuno di noi alla fine a un certo punto deve assumersi la propria responsabilità fare i conti con le proprie decisioni che valgono nelle relazioni della vita come nelle relazioni professionali come nei confronti anche delle idee che più possono convincerci e fare quindi per noi una base di orientamento all'intervento stia un aspetto dell'insegnamento e di quanto abbiamo ricevuto in reddita appunto da Vittorio grazie ecco permettetemi di ringraziare tutti i regatori e di chiudere con una domanda siamo a metà giornata una domanda a cui già in parte i regatori hanno risposto ed è che mi viene spontanea che direzione di sviluppo daremo all'eredità di Vittorio grazie a tutti grazie